Continua il lavoro sotterraneo dei responsabili dei diversi partiti che scenderanno in campo per le elezioni regionali di settembre. Nel Partito Democratico e nelle liste collegate si sta affrontando il problema delle quote rose. Intanto la candidatura di Michele Buonomo, storica figura di Lega Ambiente, conferma come il PD apre all'ambiente, individuando proposte innovative, inclusive e sostenibili. Per le candidature locali, Via Libera, come già si sa da tempo, a Vincenzo Petrosino, ex vicesindaco di Nocera Inferiore, un altro nocerino già in campo e Salvatore Arena con Campania Libera. Il Movimento 5 Stelle potrebbe avere una folta squadra di aspiranti candidati provenienti dall'agro nocerino, come Pasquale Milite e Cosimo Panico, che potrebbero spuntarla entrambi per entrare in lista. Il centro-destra si sta organizzando per dare al candidato presidente Stefano Caldoro un valido supporto per scardinare le aspettative del governatore uscente, Vincenzo De Luca. Pasquale D'Acunzi, dato vicino alla Lega, rilancia l'opportunità dell'agro nocerino di avere un proprio rappresentante nell'Assemblea regionale. Ma quale testa a testa con qualcuno e impegno a giocarsi le carte per una candidatura nella Lega da parte mia, ha scritto in una mail, solo la speranza che i cittadini dell'agro possano giocarsi le carte per avere una loro rappresentanza in Consiglio regionale. Ed aggiunge D'Acunzi, ci potrà essere questa possibilità? Per questa finalità potrò valutare una mia disponibilità ad essere in campo? O invece l'agro sarà chiamato ad essere di nuovo un serbatoio di voti a favore di altri territori? In questa seconda ipotesi, per nessuna ragione e convenienza, sarà disponibile a scendere in campo in questa prossima tornata elettorale regionale. Non gioco le carte, le vedo, intanto ascolto il mio territorio e comunque, con qualsiasi impegno, continuo ad amarlo ogni giorno, ha concluso D'Acunzi.